Terremoto in Turchia nell'invio dei container nella nazione che è stata così colpita per l'allestimento del campo per 2.400 persone, è strategico il rapporto tra la Nato e il terminalista del molo polisettoriale Ilport San Cataldo Container Terminal, attrezzato per caricare velocemente sulle navi i container provenienti dalla base e autotrasportati. Ancora una volta ha esaltato il ruolo di Taranto nel contesto internazionale, come ha ribadito al nostro microfono il generale Lepore. Ecco generale, ricordiamo ai nostri telespettatori che siamo in una grande base di supporto logistico a disposizione dell'Alleanza Atlantica e sappiamo anche che c'è un'altra grande base a Lussemburgo nel cuore dell'Europa. Perché è stata scelta Taranto? Taranto ha una connotazione prettamente operativa, quindi a suo tempo quando l'autorità politica della Nato, il North Atlantic Council ha deciso dove installare, è stata scelta Taranto soprattutto per le risorse in termini di viabilità strategica che ha. Le linee di comunicazione per noi sono fondamentali perché come vedete questi container richiedono un notevole sforzo logistico e grazie alla posizione di Taranto nel centro del Mediterraneo servito da un terminal container che è uno dei più grandi sul territorio nazionale, un'ottima rete ferroviaria, un'ottima rete stradale, anche supportata dagli aeroporti che ci sono in zona. Peraltro anche per questa operazione abbiamo usato l'aeroporto di Bari per alcuni trasporti strategici, quindi grottaglie, brindisi, Bari, l'aeroporto di Gioia del Colle sono tutti elementi che fanno sì che sono indispensabili per uno spiegamento molto rapido.